Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con la rubrica Il Fatto, oggi parliamo di politica di amministrazione, avendo gradito ospite nei nostri studi il sindaco di Avezzano, Giovanni Di Pangrazio, buonasera, grazie per aver accolto il nostro invito, con lei sindaco facciamo un po' un punto in via, diciamo anche disincantata rispetto a questa campagna elettorale per le regionali che è già iniziata e che vede già tanti protagonisti, lei non è in campo, però possiamo parlare senza particolari coloriture politiche, peraltro lei rappresenta un'area civica della guida della sua città, dei risultati che ha ottenuto finora e di quali sono i programmi per questo 2024 che è appena iniziato, lei ha messo in campo nell'anno che si è appena concluso una serie di interventi sulla città, sfruttando le opportunità che sono arrivate dal piano nazionale di riprese e resilienza, anche dai fondi a cui il Comune è riuscito ad attingere finanziamenti. Ad oggi facendo un po' un primo bilancio di questo suo nuovo mandato alla guida della città, si può dire soddisfatto dei risultati che ha ottenuto in particolare nell'ultimo anno? Sì, quest'anno abbiamo messo in campo tutte le energie necessarie e soprattutto abbiamo fatto un gioco di squadra che ne vado orgoglioso, perché abbiamo una squadra di consiglieri, una squadra di dirigenti, abbiamo un'aggiunta dinamica, abbiamo insomma un rapporto e una sinergia tra tutti noi che riusciamo a lavorare molto bene. Questo è un segnale molto positivo, forse va anche come esempio per tante amministrazioni che le vedo un po' troppo litigiose. Per superare questo bisogna essere consci e bisogna essere sicuramente consapevoli che per lavorare bene bisogna sapere che la prima tessera da tenere nel proprio taschino è la tessera della propria città. Io ho sposato la Marzica, ho sposato la città di Avezzano, tutte le energie che mettiamo e queste energie condivise con tutti, anche con gli stessi obiettivi dei consiglieri che mi seguono con molta lealtà, lavoriamo in questa direzione. Quest'anno tra intercettare circa 24-25 milioni di Euro di PNRR abbiamo messo ulteriori somme in bilancio proprio per fare delle opere importanti, molte le abbiamo già realizzate, abbiamo praticamente rifatto parecchie strade, parecchi marciapiedi, abbiamo messo in cantiere delle piste ciclabili che vanno dalla città alle periferie, abbiamo fatto delle opere di manutenzione nel parco del Salviano, nelle zone verdi della città, ma abbiamo proprio avviato delle cose importanti, praticamente la gara sarà bandita dopo tutte le procedure che abbiamo seguito per finalmente la sistemazione del nuovo municipio che è una grande incompiuta di circa 25 anni fa, ci sono stati dei problemi giudiziari, oggi si sono risolti e noi siamo partiti subito, abbiamo intercettato 5 milioni per il nuovo municipio che è la zona nord della città di Avezzano, una zona popolata da oltre 15 mila abitanti e che noi non ci vogliamo fermare solo alla realizzazione del municipio, noi vogliamo realizzare un quartiere dinamico, vissuto attraverso servizi, piazze, parchi giochi, anche per i ragazzi, per le famiglie, per rendere dinamico oltre edifici scolastici, centri sportivi e quant'altro e su questo è importantissimo, come siamo e abbiamo iniziato la rivalorizzazione della Avezzano Vecchia, siamo partiti con il rifacimento della piazza San Bartolomeo, l'ex città di Avezzano che gratuitamente ha seguito passo passo i lavori insieme ai tecnici, sollecitando la ditta per la realizzazione, l'abbiamo inaugurata e adesso abbiamo approvato il progetto che prevede una spesa di circa 3 milioni e qualcosa per la sistemazione della strada che arriva fino al castello, poi con una sopraelevata si accede a piazza Torlonia e da piazza Torlonia poi si accede al parco Torlonia che andremo a riprendere nella disponibilità del comune di Avezzano fra qualche giorno proprio attraverso una convenzione che stiamo stipulando con la regione, quindi una zona vecchia che viene rimodernizzata e viene soprattutto rimessa in condizioni, quartieri importanti rimessi in condizioni per poter essere vissuta dalla città. Primo intervento un milione e cento, abbiamo già avuto questo milione e cento in bilancio, messo in bilancio e che riguarda i terreni che abbiamo alienato all'ASL, per la quale l'ASL ci darà 2 milioni e cento, un milione e cento abbiamo messo per questa sopraelevata, il resto naturalmente andremo a contrarre il mutuo e poi stiamo rivalorizzando il centro della città e quindi questi sono i tre assi importanti, centro della città con, l'abbiamo approvato proprio mi pare la settimana scorsa, il progetto di pedonalizzazione di corso della libertà, parte di via Corradini e parte di via Cataldi, anche con delle coperture che andiamo a sfruttare, ribasso d'asta per la progettazione della zona vecchia e andiamo a mettere queste coperture su piazza Risorgimento e per far sì che i ragazzi, i giovani ma anche i meno giovani come me, possano stazionare durante i periodi invernali e soprattutto quando piove, Avezzano è una zona dove la pioggia cade spesso e quindi con queste coperture possiamo ridare anche vitalità e vissuto alla città di Avezzano, quindi è una cosa abbastanza importante, tra l'altro avendo tutti noi condiviso tutto e soprattutto avendo tutti noi una visione della città. Per ultimo, vedo che oggi tante grosse città, ho visto giorni fa Bologna sulle strade 30, noi siamo partiti sulle strade 30 circa un anno fa, 8-9 mesi fa sulla progettazione che abbiamo dato a un ingegnere architetto bravo di Avezzano, molto capace di sfruttare finanziamenti e nello stesso tempo anche innovativo per creare strade e piste che siano in modo tale che ci sia questa comunicazione tra auto e bicicletta e proprio erano le strade 30, lo abbiamo presentato in sede di maggioranza circa 3-4 mesi fa, stanno finendo con i vari elaborati e io ritengo che entro la metà di febbraio la presenteremo alla città questa strade 30 che sarebbe Viale Marconi, Viale Mazzini come primo punto di partenza per poi collegare le varie parti della città con piste ciclabili e strade 30, quindi rendere praticamente il centro con strade 30 dove chiaramente possono condividere il movimento sia le biciclette che le auto, nelle zone periferiche con cordoli salvaguardando tutto eccetera, stiamo costruendo delle piste ciclabili che vanno alla zona nord di Avezzano per arrivare ad Androsano e su Via Roma che arrivano fino alla Coppa, quindi passando per il McDonald's dove i ragazzi possono non più andare e farsi accompagnare dai genitori, quindi decongestionare il traffico ma in bicicletta, nella zona verso le frazioni di San Pelino che abbiamo già realizzato questa pista ciclabile, la proseguiremo fino a Paterno e stiamo in contatto col comune di Celano per arrivare insieme a Celano e poi nella zona sud verso il cimitero, quindi una realizzazione di qualcosa, il problema è che il personale è poco, siamo rimbiguando il personale, quindi ci abbiamo solo, ecco i tempi che non sono brevissimi, ma sono ecco… Però le idee sono chiare, da questo punto di vista, insomma ho fatto notizie anche a livelli, sa, quelle classifiche che si fanno a fine anno, i comuni più, i comuni meno, no? Questo dato molto, secondo noi, gratificante del comune di Avezzano rispetto al tema delle politiche sulla casa che ha premiato gli sforzi che sono stati fatti, non so se da lei o anche dalle precedenti amministrazioni, però comunque Avezzano è una città che sul tema anche del social housing sta facendo molto, è una delle sfide su cui si gioca anche il futuro della città. Beh, diciamo che io sono partito nel 2012, tranne una brevissima parentesi durata pochissimo, c'è stato un altro sindaco e poi il commissario, è chiaro che questa sensibilità sulla solidarietà è tipica mia, ma della mia amministrazione, del vice sindaco come assessore al sociale che è molto attento a queste problematiche, sì su questo stiamo investendo molto sul sociale, tant'è vero che abbiamo approvato i progetti proprio la settimana scorsa, sia per una casa per darla per chi si trova in situazioni di difficoltà, è l'ex casa di riposo su Via Vidimari dove ci saranno degli appartamenti, delle persone che naturalmente se si trovano in un momento di grave difficoltà possono essere in qualche modo ospitate per qualche tempo lì e poi Via Rosselli, un altro immobile che abbiamo rilevato, abbiamo intercettato anche in questo caso un finanziamento dal PNRR di circa 900 mila Euro, la stiamo risistemando tutte e questa la mettiamo a disposizione delle persone con disabilità, quindi su questa sensazione c'è molta dinamismo, poi per quanto riguarda le case popolari abbiamo un ottimo rapporto con l'Ater dell'Aquila, con il Presidente, con il Direttore Generale, con i dipendenti e quindi siamo partiti con Via Abruzzi ed altri palazzi che si trovano nei quartieri di Avezzano e che sono di proprietà dell'Ater. Bene, abbiamo tre minuti però io la voglio interrogare su un paio di questioni che poi sono anche di attualità regionale, lei dorme sereno per il Tribunale? Sì, in questo momento sì, tenga conto che io già nel 2013 facemmo una fiaccolata appena uscì quella fastidiosa legge tra l'altro di abrogazione dei tribunali fatta dall'allora commissario Birritteri che fece una spending review, in questa spending review naturalmente tenendo conto che non era un contabile ma era un giurista e non poteva capire che le spending review si fanno realmente per risparmiare fondi e non per creare più disagi e più spese, tanto è vero che pensare di accorpare il Tribunale di Avezzano che è più grande del Tribunale dell'Aquila all'Aquila sarebbe stata veramente una cosa inaudita e assurda. Adesso? Adesso abbiamo la possibilità perché è stato inserito finalmente dopo le lotte che abbiamo fatto anno per anno senza mai mollare, questa volta e l'anno scorso abbiamo patito molto perché abbiamo dovuto insistere su un emendamento, quest'anno è stato messo direttamente nel decreto legge fatto dal governo che è praticamente passato ormai con mille proroghe e è prevista la proroga di un anno, cioè fino al primo gennaio 2026 perché solo un anno e io chiaramente insistevo per qualche anno in più mi è stato assicurato dai rappresentanti del governo e nella riunione mi ricordo era presente tra gli altri il senatore Liris che lo ringrazio perché su questo è stato abbastanza attento, ci è stato chiarito che per quanto riguarda la salvaguardia dei tribunali rientrano nella riforma della geografia giudiziaria dove il Tribunale di Avezzano essendo il terzo in Abruzzo con una mole di oltre 150 mila non può essere assolutamente... Abbiamo un minuto soltanto però senza entrare proprio nel merito della campagna elettorale lei dorme tranquillo anche per il nuovo ospedale? Per il nuovo ospedale sì, dormo tranquillo perché? Perché abbiamo ormai firmato il protocollo d'intesa tra amministrazione e ASL direzione generale, d'altronde l'ASL ha messo a disposizione il 2 milioni e 7 nelle casse del comune, un eccendo li prenderemo entro primavera proprio per destinare come dicevo prima a quel collegamento della sovraelevata dal castello alla piazza Torlonia quindi se i fondi l'ASL li dà, se c'è questo progetto preliminare si parte e poi sulle promesse le so disciplinare lo so anche distingue, questa è una promessa che è partita bene quindi ci conto molto sul nuovo ospedale, è chiaro che sull'ospedale poi si deve fare un discorso molto più complesso perché la sanità ha bisogno di attenzione e maggiore attenzione. Bene, io ringrazio il sindaco di Avenzano Gianni Di Pancrazio, spero di vederci anche presto per parlare poi della realizzazione di tutte le cose che la sua amministrazione si impegna a fare per i cittadini e non soltanto per i cittadini, anche nella visione di un'idea di marsica aperta alla comunità regionale ancora più forte, grazie ancora e appuntamento alle prossime occasioni, buon lavoro. Grazie, buonasera a tutti. Grazie. Tere spettatori.